Ben tornati da Paolo Corazzoni, 3bimeteo.com a questo nuovo aggiornamento delle previsioni, in particolare riferite alla giornata di mercoledì. La zona di bassa pressione responsabile del maltempo degli ultimi giorni allenta la sua presa sull'Italia, di conseguenza ci attendiamo un parziale miglioramento del tempo, anche se come vedete qualche piovasco sarà ancora possibile sul versante adriatico e tra il Lazio e la campagna. Tra poco entreremo più nel dettaglio, iniziamo però a dare un'occhiata alle temperature notturne, valori che risulteranno piuttosto contenuti al nord, al mattino quando usciremo di casa farà veramente un po' freschino nelle regioni sedentrionali, valori invece più gradevoli nel resto d'Italia, per quanto riguarda le massime invece ci attendiamo un parziale rialzo grazie al miglioramento del tempo, valori che da nord a sud arriveranno a toccare e superare i 20 gradi. Ma ora vediamo meglio la previsione con il ritorno di un po' di sole in gran parte delle regioni settentrionali, anche se all'estremo nord-est e sull'Adriatico insisteranno ancora un po' di nuvole con qualche piovasco. Nelle regioni centrali anche qua il tempo lentamente migliora, ma sulla parte adriatica sarà ancora possibile qualche pioggia, così come nel Lazio non mancheranno comunque aumenti in cui spunterà anche il sole. Infine un'occhiata alle regioni meridionali, ancora molta instabilità tra la Puglia, la Basilicata e la Campania con la possibilità di qualche acquazzone comunque alternato anche a delle schiarite, dalle altre parti compresa la Sardegna si fanno avanti ampie zone di sereno.